Sono tre eh, terzo video, però adesso andiamo, vi abbiamo portato al mare, la pennetta USB, poi il primo video di questa mattina era il jump delle novità e poi adesso che c'è da dire, e siamo andati al mare, adesso portiamo i nostri amici in montagna, cioè ci trasferiamo nell'altro nuovo sito www.edfpoint.it perché lo sapete benissimo, quella si è delle bontine per girare dischi, del merchandise, degli accessori audio e video, ma anche del vintage, no? Eh, abbiamo pure venduto l'altro giorno tre poster di Marco Mengoni, abbiamo soltanto noi ragazzi, allora, ve lo diciamo sotto voce, però adesso state calmi eh, a voi piacciono Emil Floyd? Beh state sì, vi piacciono gli o due, mi sa pure quello eh, eh? Eh? Ora, non è un pesce d'aprile, chiariamo questo eh, perché siamo al centro marzo, però domani pubblicheremo su www.edfpoint.it due autentiche rarità originali, la prima, chiaramente se ci chiamate e dice ma la vendimi ma che carico, tegredo, che faccio? La prima è questa maglietta, t-shirt originale dei Pink Floyd, che veniva data, che era la Emy all'epoca mi pare, del tour di Division Bell, era per uscita dell'album di Division Bell, questa ragazzi è originale 100% e questa è la prima sorpresa, vuoi vedere quanto vuoi, sabono, sabono, poi cosa sapete? Adesso arriva la cosa più clamorosa che potreste avere degli U2, questa è una delle magliette più rare, originali, del tour di Zoo Europa del 93 è una cosa veramente ragazzi, questo non è un pezzo della collezione, di più, facciamo vedere dietro pure per bene, io sono incapace a gestire le magliette, però agli amici dobbiamo fargliela vedere, eccola qua, guardate quanto è bella vi dico soltanto che viene venduta a cifre stratosferiche negli Stati Uniti, noi non la venderemo a cifre stratosferiche, però la venderemo a una cifra abbastanza importante anche perché trovarla questa questa non è una maglietta, abbiamo fatto un'indagine, non è una maglietta che si trova, non è assolutamente una maglietta che si trova ripeto, le troverete entrambi, accoppiamole qua, su www.edfpoint.it da domani, però, però, diciamo il prezzo Pepe, il prezzo non lo diciamo, domani lo saprete, domani lo saprete il nostro negozio sta ampliando un po' i suoi orizzonti perché prenderemo anche altre cose vintage di questo tipo, abbiamo un post di zucchero, quello quanto è alto, quanto è grande? C'è un post di ragazza che non so quanto un letto matrimoniale, pure quello promozionale, un po' per vota, dateci tempo perché, oh, c'è un tempo, ok? maglietto originale di Division Bell, David Floyd, maglietto originale del tour di Zoropa 93